siamo tornati al toy center a prendere un giochino con i risparmi di vittorio con le monetine che lui mette via il budget di oggi è di 23 euro e il patto è che non prenda cose che già siamo pieni di lego pieni di mezzi di trasporto mezzi di soccorso mezzi di polizia mezzi dei carabinieri deve prendere quindi qualcosa che già non ha venite con noi così scoprite che cosa sceglierà vittorio questo è della polizia tu ce l'hai dei pompieri anche questo muletto ce l'hai uguale uguale ho proposto a vittoria di scegliere qualche bel gioco in scatola questo ad esempio già ce l'abbiamo abbiamo il cocco dentista ma ovviamente non vi piacciono che cosa preferisci tu e poi tutti in mezzo di trasporto è quello di prima? è quello di prima sì che cos'è? allora abbiamo la camionetta e l'acqua sparano gli geni insieme ai pompieri sono riuscita a convincere vittorio a non prendere quel gioco che ha già forse due o tre camionette uguali che sparano l'acqua la scelta è molto difficile è vero? anche questo ce l'abbiamo già il patto non è stato proprio rispettato totalmente ci siamo soffermati su questa stazione di mezzi di soccorso l'abbiamo dentro qui un'amulanza esatto poi la macchina della polizia e non mi ricordo più e la camionetta dei pompieri sì e un aralzo una radiolina dopo togliamo questo sì e vi facciamo vedere a voi che suonano e mi sa che si illumina anche niente ha scelto non c'è stato modo di fargli cambiare idea mi sa che prendiamo proprio questo ti piace vittorio? sì ma è pesa un quinto alimento vero mamma? sì pesa tanto eh sei sicuro vittorio? nel tuo acquisto? sì siamo tornati a casa e siamo già qua pronti a far rivedere il nostro gioco a far rivedere il nostro gioco e puli messi dopo vai tira via questo prima guardiamo wow vediamo questo se funziona sa che registra davvero prova a parlare aspetta vediamo vediamo questo se funziona davvero vittorio vittorio funziona funziona wow wow vai togliamo il gioco adesso allora come ti chiamo? aspetta che ti aiuto bravo un vittorio super impegnato vittorio super impegnato vittorio super impegnato vai che ce la fai a slegarlo aspetta che c'è un nodino ok ecco qua partiamo insieme amici allora cerchiamo di slegare anche di qui aspetta monelino slegati questo che è? un monelino perché non si slega? allora eccoci qui vai tiriamo fuori il super garage oh là che bravo che spanto ancora bisogna slegare mamma amici guardate che è la macchina della polizia poi? abbiamo il cammino dei pompieri con la scala sì e guardate che si allunga anche molto bello e dentro qui il garage dell'ambulanza una super ambulanza qual è il tuo mezzo preferito? l'ambulanza? sì e abbiamo la raggiolina quella di prima abbiamo scoperto che quando ci sono le sirene si può parlare quando finiscono ma si può più parlare se questo video vi è piaciuto lasciate tanti like e ci vediamo al prossimo video ciao ciao